Però se è anche mia, poi dopo ci metto quello che devo fare, poi me ne vado. Invece è per te, quindi per te vuol dire che sei coinvolto a fare in modo che tutta questa realtà, questo disegno, questo luogo, questi spazi, sono disponibili perché qualcuno ne possa usare come l'hai usato tu, alla stessa maniera, con la stessa pulizia, con la stessa apertura, con la stessa gioia, con lo stesso incontro. Questo è il senso di inaugurare uno spazio nuovo, di essere magari capaci di costruire una tradizione, in questa pannocchia, che è comunità pastonale, che non deve perdere la sua identità, però capite che l'identità è fatta proprio dall'intelligenza, dalla scioltezza, dalla calma, dalla capacità di reggere il confronto con le nuove generazioni, con quello che arriva, con quello che magari ti spinge, con quello che non la pensa come te, imparare, diventare grande, sennò sei corto, sei chiuso, come fai a respirare? Mi sto ospirando. Terza cosa, qui c'è un bel esercito, 8 copie, la maggior parte è di 40, poi c'è un 15, poi c'è un 10, giusto? 45. E' il 45. Ah no, quella che verrà su, poi sarà, perché faranno poi un piccolo gesto di riconsegna degli anelli, e a farlo sarà la coppia un po' più robusta, che siete voi due. Lei si chiama? Sto cercando la strada che ci porterà a restare con te, Gesù, è il regalo speciale che ti fa pensare quando vieni e ci vuoi. Ogni volta che tu ci inviti ad entrare, è la festa che il Padre prepara per noi, dove il vino e il pane che divideranno, ci daranno la gioia per cantare. Vedrai che bello, che bello sarà, non scrivere a Dio con sincerità, da dove in tempo cuore un abbraccio solito ad ogni persona in difficoltà. Vedrai che bello, che bello sarà, dare tutto di sé con gratulità, perché il Padre nei Cieli mi faccia un dono più grande e più bello, se ne vive in me di felicità. Grazie a Dio e a Carina, per Cristo nostro Signore. Amén. Grazie a Dio e a Carina.